Nell'ambito di un'inchiesta diretta dalla Procura di Napoli, la Guardia di Finanza Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha disverato l'esistenza di due sodalizi criminali dediti con modalità organizzate e professionali alla raccolta indiscriminata di datteri di mare nel Golfo Partenopeo. La specie marina è protetta da diverse convenzioni internazionali e direttive comunitarie ed anche a livello nazionale il divieto di cattura, detenzione e commercializzazione risale all'anno 1988. Le indagini sono durate oltre tre anni e hanno smascherato l'esistenza di un vasto mercato illecito aventi ad oggetto la specie protetta con le due organizzazioni che avevano stabilito un vero e proprio rapporto di mutua assistenza per procacciare il prodotto ittico, specie nei periodi di maggiore domanda, quasi sempre in coincidenza delle festività natalizie e pasquali, quando per un chilo di datteri gli acquirenti erano risposti a pagare fino a 200 euro. Gli appartenenti ai due gruppi criminali si dedicavano in maniera costante ed abitudinaria sia il prelievo dei datteri di mare catturati mediante la contestuale distruzione di interi tratti di scogliera campana, che la successiva commercializzazione degli stessi presso numerosi ristoranti e pescherie della regione, nonché presso una variegata clientela composta anche da esponenti di famiglie malavitose napoletane. Sono in particolare oltre 100 i soggetti individuati nel corso delle indagini a vario titolo operanti nell'ambito del mercato nero del dattero di mare. Nelle conversazioni intercettate viene spesso utilizzato un codice segreto per evitare il riferimento esplicito alla specie protetta, nella piena consapevolezza dell'illeicità del relativo commercio. I reati contestati su un'associazione delinquere aggravata perché è finalizzata alla consumazione di delitti ambientali, inquinamento e disastro ambientale, danneggiamento e ricettazione. Nei confronti di sei indagati è stata adottata la misura custodiale in carcere. Trattasi dei vertici di due sodalizi ritenuti responsabili della devastazione ecosistemica cagionata attraverso lo spregiudicato prelivo dei datteri delle coste di Napoli e Capri. Per altri sei è stata invece decisa la custodia domiciliare.